... Signore e signori, cari telespettatori, a casa sta per avere mito Circo Massimo Show, un eccezionale spettacolo che raggruppa i migliori numeri circensi del mondo con artisti provenienti da ogni angolo del globo. Non mancheranno i comici, i maghi, gli acrobati e nemmeno gli animali. Scenderanno su questa pista stelle nascenti e figli d'arte di migliori artisti internazionali. Ma iniziamo subito alla grande con Mario Bellucci che in occasione di Circo Massimo Show presenta la sua più recente creazione, un gruppo di elefanti presentiato con ritmo e musica. Mario Bellucci! Grazie a tutti! Grazie a tutti!